guarda che se vieni su di qua ti salta addosso eh chi? occhio perchè no perchè lui non ha regola ti dice di prima e di qua e la pronto adesso glielo diamo mi spiace è sbagliato dove è? no non si può venire qua pericoloso eh molto pericoloso vedi? 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 ma vedi non avere la frizione non tira da lì quando si spegne ti ho detto che era pericoloso eh tu la frizione si fa portare cioè c'è il culo che non tira la frizione quindi si spegne e si ferma se tira la frizione tornava indietro garantito che culo che c'hai che culo che c'hai oh vai riprova sarai più fortunato ritenta vai che viene un video vai alla grande dagli però eh ma che adesso arriva su eh spostatemi perchè arriva eh lui ha detto che riprova quindi togli che non si sa dove arriva eh o vi nascondete dietro il sasso ma che arriva lì eh arriva un piccolo cazzi tuoi eh cazzi tuoi ce l'ha fatta oh ce l'ha fatta hai fatto spaventare tutti facciamolo di qua ah 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 si ma se vado lì la trovo giù anch'io Vito gas gas stamattina non è invogliato bene non informa la seconda eh dove è passato il vito no di là della pianta dove ha provato il vito ti ho detto che metterò un giorno di merda questa ti metto la pianta ti metto la pianta eh 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 prendilo prendilo eh e' che ti porta via il bollino esatto 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 bravo vieni che cazzo fai vieni su? eh 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 devi avere montata forse eh prenditi a metà come fai a venire su così? come fai? devi avere il montesa forse 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 beh lui non ci arriva hai capito? ahahah ahahah eh 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 hai capito? ahahah 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 perché se prendi fai il perno sulla spalla la moto gira e poi fai fuori manettone perché se lui gli da forte ti arriva addosso te lo dico subito perché chiaramente parte mettiti di qua mettiti di qua dai oh di lì è meglio dai cazzo eh che cazzo io sto qua aspettare adesso mi metto fermati lì così a posto tu chiudi gli occhi e apri chiudi gli occhi e apri tutto dove arriva arriva dai tira via tutta con la terra lì che è almeno pulita si se pulite lì forse si perché prende così non prende un calcio devi toglierla tutta con la terra lì eh tanto fia vedi che però è meglio che stai di lì dovete tirar via un po' di quella terra lì se non venite su più ma neanche se qua ci fosse stato un muro di cemento da questa parte allora uno arrivava si appoggiava al muro poi andava su si pelava tutto il ginocchio dai vai giù a tirar via un po' di quella terra che dopo venite su tutti è la terra che c'è giù che non ti fa salire il muro gli dava contenimento invece qui la terra ti porta via e quindi per essere ripetato la terra qui davanti le pietre da qui